Salve, ben ritrovati a tutti sulla nuova tv per l'appuntamento meteo, gli ultimi giorni contrassegnati da molto freddo, qualche precipitazione nevosa anche a quote basse, parte della città di Potenza anche se è imbiancata, un'altra parte no, sono ormai gli effetti secondo me delle paleoliche che hanno ormai contaminato tutto il nostro territorio, sono effetti anche simpatici a volte, infatti in diverse zone della città si è avuta una precipitazione che ha depositato qualche millimetro di neve a terra dando un paesaggio più natalizzo, invece in parte della città non è arrivata niente, quindi una nevicata molto sterile, sui monti la neve è un po' più abbondante ma non abbiamo ancora la quantità tale da permettere di poter riaprire impianti da sci, soprattutto alla sellata qui vicino Potenza, siamo sui 10 centimetri, le nevicate stentano come negli ultimi anni nel mese di dicembre, ormai dobbiamo risalire al lontano 2003 per avere un degno natale dal punto di vista della neve, sono 14 anni ormai che la neve è natale, ci abbandonate, anche quest'anno sembrava fino a qualche giorno fa che arrivasse la neve, invece l'alta pressione avrà vita lunga per almeno 3-4 giorni a partire da domani. Vediamo velocemente le immagini del satellite, oggi abbiamo parecchie cartine da mostrarvi, notiamo ancora una volta un'Europa praticamente ancora inglobata da una profonda depressione che interessa ormai da tanti giorni e settimane la parte centrosettentrionale del territorio, molta neve in Scozia, molta neve sulla Scandinavia, neve anche sull'Europa centrale, un'altra massa d'aria fredda è sulla Russia e molta neve invece che non vediamo dal teleschermo e sulla Turchia, quest'anno la Turchia come non mai sta avendo davvero nevicate abbondanti e ci saranno altre nevicate nei prossimi giorni. Si nota della nuvolosità sull'Italia dovuta ancora all'ultima perturbazione debole che oggi sta interessando l'Italia, vediamo l'immagine ingrandita, ecco vediamo la parte più intensa sui paesi barcanici dove abbiamo anche lì delle nevicate, nuvolaglia, nubi bialte stratificate sulla parte settentrionale, invece sul centrosud, nubi un po' più biancastre, ci sono affogate qua e là in questo fronte delle cellule appena, non dico temporalesche, ma cellule di maltempo con delle precipitazioni sporadiche, anche stamattina c'era qualche nevicata ad esempio alla sellata, un'ora fa vedevo dei fiocchi di neve che cadevano, insomma una situazione che comunque non dà adito a pensare a un forte peggioramento, anzi il tempo va migliorando perché poi nella giornata di domani avremo un'attenzione di tutta questa nuvolosità. Vediamo quindi per oggi, per la seconda parte della giornata cosa ci riserva? Abbiamo visto i satelliti ancora con molte nubi, nubi che interesseranno ancora una volta la parte centrale della regione, la parte appenninica, qualche pioggia ancora prevista, vulture merfese, qualche fiocco di neve in montagna, ma poi i venti da nord presenti e forti, forti questa volta, settimana scorsa erano sul Potentino previsti con tutti i danni che poi abbiamo visto, questa volta prevedo dei venti forti soprattutto sul lato orientale del Materano, ma non dovrebbe esserci danni perché non dovremmo superare i 100 chilometri orari come invece è successo la settimana scorsa. Cielo sereno durante la notte, sul lato orientale la nuvolosità andrà man mano diminuendo anche sulla zona tirrenica e rimarrà solo sulle zone interne. Vediamo infatti per quanto riguarda la giornata di domani una situazione che vedrà ancora una nuvolosità parziale sulla provincia di Potenza, soprattutto la parte centrale e settentrionale della regione, meno nubi sulla parte meridionale, per indendereci della Gonegrese e del Pollino e avremo invece una situazione, vediamo con l'aiuto della grafica, una nuvolosità parziale, vedete come dicevo prima sul Potentino, poche nubi invece sul resto della regione, man mano la nuvolosità tenderà a diminuire e le schiarite prevarranno sugli annuvolamenti, quindi domani non ci dovrebbe essere pioggia o al massimo qualche residuo a pioggia in mattinata, ma nulla di più. Le temperature, per quanto riguarda domani i venti da nord, ancora vedete sostenuti, ancora forse con rinforzi in mattinata, soprattutto sul Materano, questi venti produrranno una sensazione di freddo, anche se vedete le temperature si sono alzate ovunque, non abbiamo più quei valori di sotto zero che hanno caratterizzato, siamo arrivati fino a meno 5 a Potenza, meno 7, meno 8 in alcuni incendi della regione, vedete per domani mattina minime intorno a un grado a Potenza, 4 gradi a Matera, per quanto riguarda le massime 5 a Potenza e 9 a Matera, con i mari che saranno mossi o molto mossi, lo Iorio soprattutto, a causa di questa ventilazione da nord piuttosto sostenuta. Andiamo alla domenica, giorno della vigilia di Natale che si preannuncia all'insegna dell'alta pressione, quindi avremo un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, le temperature anche si alzeranno nei valori massimi e vediamo le previsioni per domenica, vedete una situazione idilliaca, sembra quasi un ferragosto se vogliamo, dal punto di vista che poi alla fine non è tanto distante dal ferragosto, dal punto di vista dei geopotenziali, della posizione barica, quindi sono tutte in quota, abbiamo una situazione simile all'estate perché c'è alta pressione sia al suolo che in quota, però naturalmente facciamo i conti che sono queste le giornate più corte dell'anno, anzi da oggi le giornate cominciano ad allungarsi, piano piano andremo verso l'estate, verso la primavera dell'estate, ma ancora c'è di mezzo l'inverno con cui dovremo fare i conti, anche a breve. Quindi vediamo questa giornata di Natale di domenica all'inserito del bel tempo, vediamo la ventilazione e le temperature, ancora una volta venti da nord, ma vedete sono in attenuazione, da nord ovest, rinuteranno nel corso della giornata, ancora qualche timido rinforzo sul materano dove il marionio sarà ancora un po' mosso, invece il terreno sarà poco mosso, le temperature per domenica avremo una lieve diminuzione nei valori minimi, quindi torneremo intorno allo 0 gradi a potenza, 2 gradi a materia, congelate comunque molte estese nelle vallate, appenniniche, nelle zone interne della regione, durante la notte farà freddo, anche complice il cielo sereno, invece di giorno vedete 10 gradi a potenza, 12 a materia, sono valori nettamente superiori alle medie stagionali. Quindi la nottata di Natale andremo a messa, chi andrà a messa, con freddo di notte, ma il giorno dopo sicuramente ci saranno valori piuttosto caldi. Vediamo infatti velocemente la tendenza per il giorno di Natale, quindi ecco, all'insegna dell'alta pressione, Natale con tanto sole su tutta la regione, qualche velatura sarà possibile, qualche nube sulle zone tirreniche, ma all'insegna del bel tempo, con temperature rimarranno fredde, come dicevo, durante la notte, ma durante il giorno sicuramente toccheremo valori di almeno 10-11 gradi su potenza e 13-14 gradi su matere, quindi valori più vicini al mese di marzo e aprile che non al mese di dicembre. Il Santo Stefano, per finire dal punto di vista della grafica, la cartina riferita a Santo Stefano, inizialmente ancora a bel tempo ovunque, ma la pressione nel corso della giornata comincerà a flettere e questo permetterà un aumento della novolosità a partire dalle zone meridionali della regione, soprattutto dalle zone tirreniche e non escludo nel giorno di Santo Stefano qualche pioggia in arrivo sulla costa tirrenica, perché va avvicinandosi una perturbazione che poi ci colpirà l'indomani, il giorno 27, quando tornerà a esserci mal tempo su tutta la regione e non escluda anche delle nevicate in montagna con quota neve in calo. Entro la sera del 27, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe esserci la neve anche sotto i mille metri per via di una depressione molto veloce che però porterà di nuovo un mal tempo. Vediamo ora la tendenza per lì con la carta degli spaghetti, vediamo cosa ci riserva l'andamento dei prossimi giorni, ormai l'abbiamo imparata tutti, sono le varie tendenze evolutive che da qui a 15 giorni, la parte alta sempre riferita alle temperature, la linea rossa è sempre riferita alle medie trentennali, quindi partiamo da valori decisamente al di sotto, ce ne siamo accorti tutti, sta facendo più freddo del normale, ma da domani dopo domani i temperature si porteranno rapidamente al di sopra delle medie di almeno 4-5 gradi e poi dopo 3-4 giorni di alta pressione i valori tenderanno a scendere ma nulla di più, insomma vedete, alcuni modelli danno anche sotto le medie, ecco perché è il motivo per cui vi dicevo che dal 27 potrebbe tornare un po' di aria fredda il mal tempo, infatti anche le piogge previste assenti fino al giorno 27, dal 27 la linea in basso dello schermo ci mostra una tendenza, vari modelli portano il ritorno delle piogge a partire dal 27 con punte di precipitazioni più alte tra il 31 e il 1 gennaio, ma parliamo di una distanza temporale troppo ampia per poter dare credito a queste precipitazioni. Vediamo un'altra cartina ancora del modello americano che per il giorno di Natale, ecco vedete proprio la cupola anticiclonica, anche i meno esperti si renderanno conto di questa cupola a forma di campana con l'alta pressione posizionata proprio nel centro, il centro di alta pressione posizionata in Algeria, quindi parliamo del Nord Africa, è una matrice subtropicale questa alta pressione, ecco perché dicevo che era molto simile a quell'estiva e il cuore caldo si trova proprio tra la Sardegna e le regioni tirreniche settentrionali con la Liguria, quella macchia più arancione e le correnti invece molto fredde sono sulla Russia dove c'è il viola e dove c'è il blu, quell'aria fredda era quella inizialmente destinata all'Italia meridionale che poi nei giorni scorsi invece ha cambiato traiettoria ed è andata a finire a un paio di migliaia di chilometri lontano dalla nostra Italia. Vista questa situazione dicevo godiamoci questo Natale e io vi faccio i migliori auguri per un buon Natale, un buon Santo Stefano in famiglia, il tempo sarà buono quindi godiamoci queste feste e non mangiamo troppo perché poi è difficile smaltire i chili in più. Buone feste, buon Natale a tutti i telespettatori della Nuova TV, al prossimo appuntamento di venerdì prossimo.